Ciao ragazzi, benvenuti, sono sul mio canale, eh, sono beppe, perché sapete, mancavate tanto, ho detto che la manipolazione siete iscritti, comunque mi sento il colare colare, andate proprio adesso. Dovemmo fargli uno scherzo, io ho ancora l'unità mia a cercare, cioè a cercare, mi devono, ma perché sto facendo la stanzetta perché ho detto poco che fa per prima, e dice sì, faccio la stessa canzone, sta accampando, e non nascondere le vanno, poi lui, prima di tutto, non so se è a cercare una stessa canzone, nel pan, nella società, per un'altra estate, io mi nascondo nel pan, un dato di tutto, vediamo se non mi trovo, io, a me, in un attimo della stanzetta, io piano piano vado a spedere la settimana, e dico, è una storia che non so se lo taglio, lo faccio prendere da pazzo, al video. Aspetta, nascondo il telefono, è proprio pieno. Ancora è arrivato a cercare meglio il bagno. Vai. Vado a spiarlo un attimo. Grazie. 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 Grazie a tutti. beh detta hai scoperto di una cosa hai scoperto una cosa si sta registrando ma non è un pochino perché no? perché non sono scorsa perché mi sono scosta nel bagno quindi detta credito ciao 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 raga ciao 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 ciao